L'aspetto che più di tutti ha influito nella mia crescita professionale e nella mia didattica è stato il microscopio. Con Meg si è ottenuto il massimo di quello che si poteva forse pensare e mai avrei pensato di arrivare a creare una struttura di questo tipo. Quindi devo ringraziare il mio amico e il partner Carlo Ghezzi per aver investito in questa struttura, ma anche la Zais come compagnia perché ci ha sostenuto in questo aspetto. Il poter fare un qualcosa, un centro con un'attività molto mirata alla pratica, oltre che alla teoria, è stato un obiettivo, forse un sogno, che si è realizzato. Creare una scuola attraverso dei tutor, tutor come Enrico Agliardi, Carlo Ghezzi, Federico Ferraris, San Marco, Fabianelli, eccetera, ha permesso di avere una serie di speakers di altissimo livello. In questa struttura utilizziamo tutte le sorgenti informative didattiche che ci sono nel mio studio. Ci si ritrova con simulatori che hanno l'esatta corrispondenza a quello che avviene durante le fasi cliniche. La struttura è dotata di 16 microscopi. L'idea è quella di portare l'utilizzatore o il futuro utilizzatore ad utilizzare il microscopio con facilità. Come strumento che realmente può limitare i tempi e aiutarci a migliorare la nostra qualità. Ricordiamoci che è uno strumento di grandissimo valore da un punto di vista delle opportunità che ci può dare. Grazie. 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 Grazie.